Io permetto che Gesù faccia un po' di pulizia nel mio cuore. Oh Padre, io ho paura che mi bastoni, ma Gesù bastona mai. Gesù farà pulizia con tenerezza, con misericordia, con amore. La misericordia è il suo modo di fare pulizia. Lasciamo, ognuno di noi, lasciamo che il Signore entri con la sua misericordia, no con la frustra, no con la sua misericordia, a fare pulizia nei nostri cuori. La frustra di Gesù con noi è la sua misericordia. Apriamoli la porta perché faccia un po' di pulizia.